Bentrovati, oggi continuiamo la nostra serie di approfondimenti e parliamo di pomodoro. Ecco partiamo sempre inquadrando un po' la cultura all'interno del ventaglio di prodotti assicurati dai nostri soci, vedete che il pomodoro è sicuramente la cultura preponderante, rappresenta il 62% del valore assicurato complessivo del condifeso di Piacenza. Un importo superiore ai 60 milioni di euro. Scorriamo un po' i dati principali di questa cultura, vediamo che più o meno il valore assicurato è in linea con l'anno precedente, il premio invece è aumentato del 19% causato dal dato dei risarcimenti del 2019 che vediamo sotto che sono stati oltre 11 milioni di euro, mentre nel 2020 i risarcimenti superano i 2 milioni di euro, quindi sono drasticamente ridotti. Gli ettari assicurati vedono una leggera flessione del 4%, i soci assicurati invece sono aumentati di 10 aziende, il tasso medio vedete che rispecchia un po' l'aumento che troviamo nei premi, quindi più o meno sempre un 20%. i soci risarciti sono 95, nell'annata 2020 sono stati 232 nel 2019. Ecco in questa diapositiva vediamo quante avversità hanno deciso di assicurare i nostri associati, quindi partiamo con la scelta più gettonata che è la polizza 3 avversità, grandide, pioggia e vento, scelta su oltre 5 mila ettari con un tasso medio dell'11,48% e una resa media assicurata per ettaro di 883 quintali. vedete poi a seguire la polizza 6 avversità, quindi con in aggiunta le catastrofali, gelobrina, luvione e siccità, con un costo medio del 13,64% scelta da circa 40 assicurati. A seguire la polizza 2 avversità, quindi grandide e vento normalmente, scelta su oltre 800 ettari con un costo del 7,64% medio e 889 quintali per ettaro assicurati. A finire a 9 avversità scelta solo da uno dei nostri soci su 25 ettari. Allora due considerazioni mi vengono da fare, allora una è che nella scorsa campagna alcuni soci hanno scelto di rinunciare alla garanzia eccesso di pioggia, questo a causa del costo alto di questa garanzia naturalmente dati i numerosi risarcimento erogati negli anni precedenti, quindi il concetto è la garanzia funziona ma costa, pertanto se voglio risparmiare qualcosa posso decidere di assicurare solo due avversità. Vedete che sono riusciti in questo modo ad abbattere il costo assicurativo in un modo rilevante. L'altra cosa è che vi ho indicato in ogni tipologia di polizza il tasso minimo pagato da un nostro socio per quella determinata tipologia e il tasso massimo. Allora dentro questo gap c'è il comune, c'è la compagnia, c'è la polizza più performante e la polizza meno performante. Però vedete che comunque questa escursione di costo è molto elevata soprattutto nella polizza quella più diffusa che è la tre avversità, andiamo da 5,91 a 14,19. Ancora una volta questo mi invita a ricordarvi di guardare bene prima di scegliere, farvi fare più offerte, chiedere alcun difesa, siamo qui per darvi una mano. Qui invece vediamo quali sono le avversità che hanno risarcito di più nel 2020 il prodotto pomodoro, vediamo che è un'annata in cui la Grandi nella fa da padrona perché risarcisce l'89% dei danni, cioè a seguire l'eccesso di pioggia il 9% e il vento forte rappresenta il 2% dei risarcimenti. Ecco qui entriamo in un tema molto caro ai soci con difesa di Piacenza che è la franchigia relativa alla garanzia eccesso di pioggia del prodotto pomodoro. Allora mentre partivamo negli altri anni dove i soci avevano la possibilità di scegliere almeno tre franchigie che erano 30 fisso, 30 scalare a 20 e 20 fissa, nel 2020 purtroppo hanno avuto solo due scelte e hanno avuto come scelta quella della franchigia 30 fissa oppure le franchigie scalari che da 30 scendono a 20. vediamo un po' com'è andata, su circa oltre 2.000 ettari sono state scelte le franchigie scalari, hanno avuto un costo medio del 12,91% e hanno risarcito mediamente un SP del 47% questi soci hanno avuto, hanno assicurato 904 quintali per ettaro. Allora invece cosa è successo? La maggior parte dei soci hanno scelto la franchigia fissa 30, questo non so se è stata una scelta del socio oppure se è stato un problema del mercato nel senso che quasi tutte le compagnie offrevano solo la possibilità di assicurare l'eccesso di pioggia franchigia 30 fissa, comunque hanno tendenzialmente speso un filo meno perché hanno speso il 10,67% medio di tasso rispetto al 12,91% di chi ha scelto la franchigia scalare, le polizze hanno avuto un andamento del 25% e hanno assicurato 880 quintali per ettaro quindi in linea con l'altra. Ho messo per correttezza cos'era successo nel 2019, nel 2019 5.400 ettari erano stati assicurati a franchigia fissa 20 con un tasso medio del 99,47% quindi questo ci fa capire quanto le compagnie ci hanno richiesto nel 2020 per recuperare i risarcimenti del 2019. ecco qui vediamo, verifichiamo se la convenienza dello strumento assicurativo per il prodotto pomodoro se qualcuno avesse qualche dubbio è attivo oppure no, allora la convenienza è sicuramente attiva vediamo che negli ultimi anni il premio che i nostri soci hanno pagato alle compagnie che appare a 42 milioni, hanno ottenuto 43 milioni di euro di risarcimento e hanno ottenuto 25 milioni di euro di contributo quindi la polizza rimane sicuramente uno strumento utile. Ricapitolando le cose utili che speriamo di avervi trasmesso sono che assicurare il prodotto pomodoro conviene è importante mantenere questa valutazione su una stringa di anni più lunga possibile per fare una valutazione corretta le polizze abbiamo visto che possono avere differenze di costi e condizioni notevoli anche a parità di garanzie assicurate quindi fate sempre un ulteriore controllo e una verifica su diverse compagnie le polizze possono coprire fino a nuove avversità quindi è utile ogni anno valutare quali sono i rischi climatici che vi aspettate o che vi spaventano e abbiamo visto che è possibile valutare al fine di ottenere un risparmio la possibilità di non assicurare la garanzia eccesso di pioggia in quei comuni dove magari vi sentite più tranquilli o dove i terreni ve lo permettono Io ho terminato, vi ringrazio come sempre per l'attenzione vi ricordo che abbiamo attivato per tutti i soci un servizio Whatsapp e vi invito a salvare nella vostra rubrica il numero in modo tale così possiamo inviarvi comunicazioni o video messaggi grazie, un saluto a tutti